uno va avanti con la vita tu rimani lì senza no no scusi Maria una domanda lei pensa che io e lei siamo d'accordo da quello che vede guarda Lorenzo io ormai non metto più nessuna mano sul fuoco su cui è seduto lì no no assolutamente ma l'anno scorso l'avrei messa ok sarei una cretina a dirti ormai no no mi fido più delle mie sensazioni no 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 guarda quando mi hanno detto di chi c'era lì seduto no no di quello che era successo al telefono me l'hanno detto io ho detto non ci credo certo mi hanno girato i messaggi che c'erano tra lei e suo ex fidanzato se non l'avessi sentito con le mie orecchie non ci avrei creduto allora vedi però ritorniamo sempre al discorso di prima hai visto e ci ha creduto io uguale con lei prima io ci avrei messo dieci dita è quello che sto facendo allora anch'io con lei grazie a tutti grazie a tutti